Ispezione dei NAS di Pescara e della Asla Vezzano sul Monalacuila questa mattina nella scuola primaria all'Ola di Stefano di Viale Roosevelt. I militari hanno ispezionato gli ambienti dell'edificio scolastico a seguito di un esposto presentato le scorse settimane dei genitori, corredato anche da fotografie dove si faceva accenno ad alcune carenze. I NAS sono andati a verificare di persona come vuole la prassi se quanto segnalato dai genitori corrisponde o meno a verità. Nel blitz di questa mattina i militari capitanati dal Maggiore Domenico Candelli si sono fatti coadiuvare da Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, il Siesp, che è uno specifico dipartimento della Asla Vezzano su Monalacuila chiamato in causa per verificare le condizioni degli ambienti. Nel mirino dei NAS sarebbero finiti i banni della struttura scolastica ed alcuni locali ma nulla si sa circa l'essito dell'ispezione. Novità potrebbero esserci già delle prossime ore anche se tutto lascia pensare che non si sarebbero riscontrate gravi irregolarità. I militari ora dovranno stilare una relazione che sarà recapitata a tutti gli organi preposti compreso al comune di Sulmona che è stato colto di sorpresa. Non sapevamo di questa ispezione dei NAS tagliato corto il vice sindaco e assessore comunale lavori pubblici Nicola Angelucci. Si attende quindi l'essito dell'ispezione.